a todos già faccio ok tutto chiaro ASD funzionano gli alert io che mi sono risabbato grandissimo tutto questo qui perfetto tutto posto tutto pronto una racca una racca battle royale battle royale battle royale battle royale ok in fine mi sembra mi sembra essere mezzo ecco cosa si può per streamare ok vediamo se regge lo streaming ok vado qua guarda qua ma cos'è? ma cos'è negli angoli gli angoli voi ok vediamo cosa fa una racchina una racca caldo caldo qua con tutte queste cazzo di luci eccetera molto caldo molto caldo molto caldo una racca battle royale nuova concezione per questo periodo dei regni troviamo a interpretare un eroe che non so fa cosa adesso vediamo poi ci sono delle pergamene che sono classiche queste non ci interessano subito armor ecco quello che ci interessa è trovare armor moschietto che fa cagare moschietto ragazzi c'è un tempo di ricarica esagerato un armor blu un armor blu ah si un armor blu ottimo ce n'è uno è 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 uno fuoco ooooh oh circa ma che un scatola morte allora l'arco lo prendiamo arco lancia un po ci impaschiamo ci curiamo sono andato un po si dice cazzo duro perché pensavo di avere l'armor power di lui ma io stavo sbagliando alto ma sparato sparato uno va di fuori ogni guardata con troppo leggendario un cazzo fine due le non che No Attac Eh si ho visto Giornamento mezzanotte Tra l'altro io Sono convintissimo che era oggi Sì se ho Thieves Invece no Vabbè Guardate qua Madonna Che kill Ma non riesco a prenderlo Sbaglio Ora parliamo Oltre a Sekiro Sekiro che non Aggancia Che aggancia ovviamente Piarrara 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 la mettiamo qua Che fa? Che cazzo ha? Che cazzo? No 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 Sto arco ragazzi Allora Avrei Ci chiedo passare? Possiamo dai per il mio bene Madonna Abbiamo uccisi un sacco Un sacco con l'arco Abbiamo fatto anche un bel po' di kill steal Con l'arco Perché siamo contenti Ma È il momento di cercare qualche runa decente Resist La cosa più bella di questo gioco è stillare le kill con l'arco Guarda qua Mali resist Zurra Ma Sì Ma Senza Barbeck Beh sì Sono io Sono proprio io tra l'altro Ho un taglio Taglio punk E Sì Volevo fare 3 Venerdì sera Ho detto Ma sì usciamo di casa E Questa è la storia Mi sono sbarbato Ma Sì Molto Molto gabber Più rave Ma ti unisci a Dopo Anzi a 6969 A A Il fantomatico game Comunque Lagga Lagga molto meno Anzi non lagga per niente Devo dire da quando ho fatto Quando ho seguito le istruzioni del De tizi L'ho installato su ssd Manchile Anchile Sconosciuto Anchile Tocca Proviamo sta cannona Il fatto che Da quello che ne sento sempre parlare Oh guardate qualcosa di viola Oh Catana viola Signori Sì Rirò prenderla Prima che qualcuno mi uccida Non siamo oggi Oh no La zona la zona la zona Oh no Rirò prenderla staccata Prima di morire Vai giù Madonna 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 Lingordigia Lingordigia Mi ucciderà Dai scendi E E E E E E E E Un po' più imbranato Brava E 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 Un po' no Guarda qua rune Rune simpatiche Un po' di vitalia Nel game precedente ho trovato tipo una runa leggendaria Gialla Poi non so se leggendaria o meno Tipo aumentavo la vita ma l'ho preso lo stesso Proprio l'ho presa eh Di tanta ragione Bella frasco Madonna Il frasco Vabbè Ho una viola Ho una viola L'ho ancora Oh Sparano Mi sparano E tu che mi spari? Testa di cazzo Subirai l'ira del condor FK Un po' Eccolo Famigerato cannona Guarda questa Povera Mister Existente Generator Damage Oh no Ma questa qua andava in giro così eh Tutto questo è Pensavi Pensavi di fottermi Testa di cazzo Allora devo dire che il cannone non mi sta Convincendo Facendo Quanto ha stealth Vevo dire che il cannone non mi sta convincendo più di tanto eh Preferisco 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 L'arco Questo lo trovo Perché l'avevo lasciato Comunque questo gioco gratis Fino boh ad agosto Agosto dicevano C'erano C'erano un sacco di problemi di laggero Però con Con tipo un'istruzioncina che hanno lasciato Sembra essersi fixato tutto Vediamolo E'va un'istruzioncina che E'va un'istruzioncina che Quanto edizio la poco un arco ma lì 0 un colato l'arco un colato un colato un colato è un popolo anche ha come un po' di tono come dov'è? E' un po' di faiare di cangona che cazzo m'ho visto? Madonna che ano che ano è morto quello è morto quello è da un vicino è da vicino ho visto che è da vicino a mie spese vediamo vediamo se c'è qualcosa di più a distanza allora tizio la è morto penso poi è morto morente andiamo a vedere qua gli alberi gli alberi perché è una tattica a questo punto prendiamo il muschetto eh è un muschetto è un muschetto è troppo caldo con tutte queste cazze perciò 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 l'arco lo 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 po' Ok, sta cross proprio Vediamo quello là Oddio, che cazzo è? Ah, adesso mi ricordo l'ultima volta Sono morto perché era Era lì, eh Era lì Era lì in mezzo Solo che mi laggava tantissimo Non riuscivo a capire Ah, quando mi sembra che non ci sia nessuno Mi dà a live 5 Scusa, non si mira con la balestra Perché ti ho schiacciato il destro No, 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 no No, 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 no No, no, no Eccolo Non ho fatto niente Non ho neanche preso Madonna Facci il verso del passerotto aperto Proverò Live 4 Non c'è No, no, no No, no No, no No, no No, no Non c'è No No minchia, certo, io non l'ho preso, lui si e te la tua armatura oro tu non riesce per la bellezza guarda la pelle oh no Manna, troia! Culo! Quarti siamo arrivati. Peccato, peccato, peccato. Eh, non mi mollava più con sti cazzo di... Eh, son cazzi eh. Vediamo se almeno quello che ci ha ucciso vince. Che è? Devo imparare un attimo a parare. Questo qua l'attacco lento, lo imparavo. Guarda che mossa che fa. Guarda come le peccato. Guarda come le peccato. Non c'è nessuno. Secondo me il drone mettevo. Stavo su un albero. GG. GG a... Y17. Ma ti unisci? 69. E' un nuovo eh. Sono su Discord eh. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Dai, siamo andati in top 5 eh. Ci sta. Metti pronto eh. Pronto. Eh, sei stato bravo a perdere eh. Ma come? Ma mica. Non mi supporti. Mi dici che... Vabbè era troppo forte. Fica, quella è la forza. Ti ha... Hai visto? Hai visto? Come faceva? Eh, ti grabbava. Continuava a grabare. Non riuscivi a scappare tu. Si. Per quanto tanto che in questo gioco... Guardate che in questo gioco quando scappi sei morto. Eh si. Dipende se... Con chi gioco. La Voldar. Si verrà fuori a cena. No. Fatti i cazzi tuoi no? Ma fatti i cazzi tuoi? Ma com'è parla eh? No. Oh, non si rutta in live. Molto video eh. Scusatemi ragazzi ma... Da male Ducati. Non ho parole. Scusatemi, mi scappava. Non ho parole. Per questa male Ducasa. Vabbè, quando trovo la partita eh. Vado a farvi un giro intanto. Si. Madonna che è freddo. Ma che è? Da lenti. Cos'è che stai facendo sul tetto? Fabrizio? Tetto. Fabrizio? Fabrizio sul tetto. Attenzione. Si. Che figura. Io mi sono messa poi dalla finestra con le cuffie. E c'era il ristorante pieno. Che vergogna abbiamo visto tutti. Quelle tue cuffiette da nerd. Si. Cuffiette da nerd. Cuffiette da nerd. Guarda qua si può... Guarda qua che ti... Dando un sacco di... Di compenso. A livello 11. Guarda ma il di stomaco sbrucia. Ha trovato la partita? Sì. Sì. Dormi eh. Hai messo a sveglia? Sì. Dormi che ti svegli presto eh. Bravi. Dormite. Eh la dea è oggi nata al veterinario. Un bacetto. Un bacetto. Ha fatto storia. No lasciala qua per favore. Lasciala qua che devi riposare eh. Cosa? Ce l'hai fatta. Ho una fatica. Non riuscivo a tenerla. Ho fatto una figuraccia. In sala d'attesa continuava a strillare. Poverina. Continuava a piangere. Voleva uscire. E io ero lì a combattere con solo la sua forza. E c'era un ragazzo con un gattino. Mi fa. Il tuo cane ha paura. Beh direi. A te cosa sembra. Abbiamo l'ealer? Non ci abbiamo? Dobbiamo prenderlo? Vado lo so. Prendo io? Vedi tu? Non so come si usa però. Non so come si usa però. Non so quello che vuoi. Ah non so se è tipo. Vedo che dobbiamo prenderlo per forza. Vado. E poi dove ci curiamo? Ci curiamo. No. 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 Allora, il gioco da scaricare è gratis, si chiama Anaraka ed è una Battle Royale, trovo quei cinesi, ci sono due vari personaggi, adesso vedrai la nostra mira volante sconfitta, è bello perché si sviluppa molto in verticale alla Sekiro. Laggino, laggino, eh io un po' ancora sì, ho fatto quella cosa lì su Steam si scarica, ciao Xevil, wey batame sa, che cosa? Che? Chi? Per me, ma un'arma o devo andare a prendere a cedere tutti? Mi sa che mi toccherà... prendere a cedere tutti. Ho fatto un'arma perché io non ho ancora trovato niente, mi state mettendo l'ansia, sono già agitata, mi scudono già le mani. Non riesco a luttare, non trovo niente, faccio schifo. No, 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 sarà così negativa. Io voglio la crossbowl. La sparrow. Se vediamo, se troverò un'arma. Qua? Oh, una lancia, ottimo. Questi mucchietti. C'è una crossbowl. Ho trovato qualcosa molto buono. Vuoi un... Ma non è che riesco a parlare, giocare... Non è che... Vuoi un arco blu? Beh, sì. Te lo porto. Però mi devi dare qualcosa in cambio. Cosa vuoi? Ho sentito il rumore. Scappo. Scappo, scappo. Sicuramente ero tipo io però. Sì, ti fai pure da sola? Un classico. io avevo il cazzo siete porca eva hai capito come si disarmano le persone no dicono quando diventa blu ma non ho capito quando tipo fai l'attacco blu ma non so che cazzo vuol dire qualcuno ha pigato un'armatura blu sbaglio io io e lì dove sei tu o sparano 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 parano l'ho presa 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 è mia bella 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 col muschietto matura blu tieni l'arco te lo butto a terra qua blu si adesso arrivi gnaro dai c'è svegliate and kill it mamma mia guarda mia arma oh raga c'è uno camminava in mezzo a noi si tranno anche i suoi amici da qualche parte fate fate attenzione tenete gli occhi aperti bisogna un figlio ma la cinquantina di minuti bro l'ora e le nostre brawler brawler ciro brawler brawler c'è uno c'è uno c'è uno si è visto l'ago la mia croce la mia ucciso bello la crossbow ma dove del cadavere del tipo ma non c'è la presa su jack su no l'avrei presa tu deficienzo no io non ce l'ho si dice come ce l'hai lei nelle altre armi guardato no ce l'avrà n aspetta aprire l'inventario che ti guardo ce l'ho hai visto no perchè c'è il giveaway di giugno di me di mezzo è facile cota va bene ciao ci l'ho dopo ciao ciro c'è una spera Oh ma che paura Non capisco come funziona Si sta provando Ma pota è con noi Ok finita la mappa Qua c'è il mare Ragazzi la farfalla è luminescente dove? così nel campo e poi dov'è l'energia? ah è quella... è l'esagono prova a far scattare, vada che c'è un esagono tipo in parte del tuo personaggio si l'energia l'ho scoperto adesso tu lo sapevi? si che è la stamina lo sapevo da quando sono nata, poppante si è troppo connisciente guarda cosa c'è qua che cosa? che ha il nostro nome all over it ah bella what? where did you come from? lol chi è? sono stunnata ma dov'è? ma da sola ma lo sapevi? no è possibile, a chi c'è stunnata da sola? te lo giuro te lo giuro, te lo giuro te lo giuro c'è un canone blu io ho trovato qualcosa molto buono oh c'è un gioco di... e di... wow hai visto questo? è un grosso teschio di... tutti piccoli andiamo arco blu ma ci sono dei troppo leggendari si guarda qua pistola rara vebbica vediamo guarda qua guarda qua parano nemici lì 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 guarda qua dove va dove va pistola preso 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 bello morto l'altro dov'è? cosa che hai di bello? un sacco di roba era da solo questo? no impossibile non possibile anche era da solo andiamo verso la zona intanto no? qua c'è un upgrade per le soul jade per tornare una in più non c'ho voglia di camminare fino a là non c'ho voglia di camminare fino a là ma comunque siamo dentro la no zona ma no ma stare attenti a sti fungetti pensi che li troppegate? pensi che li costronzate? la zona è qua aspettiamo il nostro amico che è stai andando a fare la quest la zona è qua è una zona qua La zona è qua Faccio un tipo morto Vai, vai Ma che cosa è? Va, cazzo sto volume Potremmo anche aspettare qua su un albero E vedere quando si chiude l'area Se arriva qualcuno E prenderci una chiletta Guarda là, guarda là Sì Cosa facciamo? Facca Str filho Stop caminho Madonna, ma che Divino Madonna, non c'è Oh. Just toтовabytes Chi Lambda Via uno è morto e l'altro anche bello bello cazzo io sono lì del cazzo poto curarti porca Eva e ce n'è ancora uno vivo? si ma perchè questo non riusciamo a ammazzarlo C'è un'epic long.. C'è un'epic long.. ma comunque mi hanno preso in due perchè mi hanno fatto malissimo al primo anche tu gli hai sparato no? minchia te l'ho sparato ah no al primo primo no al secondo gli ho sparato al primo no io manco ho visto quello che hai ucciso allora gli ha sparato cota ma che è possibile che gli ha fatto così tanto danno scratch that speriamo che ci sia una comunque io le giade le prendo ancora a caso cosa c'è di bello? avete preso armatura? si ho te l'ho beh io prendo attack e resist tutte le altre boh io metto su un albero che qua arriva la gente sicuramente per il coso perchè non sento più niente non lo sveglio il telefono la sveglia devi mettere? sono stavo la sveglia delle 10 non chiedermi che cazzo c'è la domanda ha visto qualcuno? no quella roba lì è per l'aumento del soul jade allora siamo leggermente fuori ok dalla zona vai leggermente fuori io sono fuori ah io sono fuori basta l'albero non mi piace di più perchè c'è più pelo sono altri due team vivi però io non vedo nessuno e poi io quando c'è tipo i gruppi finali vado nel panico e non vedo nessuno e poi io quando c'è tipo i gruppi finali vado nel panico e non vedo nessuno cosa sono gli alberi? eh dove cazzo sono? allora sugli alberi qua davanti sembra non esserci ah stanno combattendo tra di loro sono arrivati in osso vai facciamoli eh no aspetta ho visto un colpo eccoli eccoli dove dove? ah no siamo uniti però raga no aspetta e poi se loro sono adesso sugli alberi noi prendiamo posizione eh pensavo che era un nemico ahahah dove è l'altro? ah là dietro dove cazzo sono? sono rimasti in sette quindi hanno ucciso tre due tre e può essere che siano anche dei team diversi eh la zona è cambiata magari sono due due tanto prima o poi dobbiamo devono passare di qui eh il camping finale staranno dentro quella zona di rossa eccolo eccolo I can smell them from afar cosa facciamo? mi chiamo da lontano? sapevo che erano sugli alberi bastardi cazzo mi sparano a me mi beccano mi scendo scendi 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 mi hanno visto un culo ho sbagliato tasto scendi scendi da dov'è che ci sparano? ma io non lo vedo la eh no no è sceso un invisibile occhio scendi armatura d'oro quelle invisibili dietro buona 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 vai 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 torta buona morti tutte armatura corruzione corruzione car levati madonna ridame da me da me da me da me morta 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 no va cidio 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 i fatti ce ne abbiamo un puto vita cazzo non vedo niente c-dito di te no no cazzo cazzo ma questo non mi aiuta però ecco eccolo è morto mi è perso è l'ultimo era l'ultimo no era l'ultimo si dove dirmelo cazzo eh si dovevamo focusarlo cazzo ed abbiamo perso Dove dirmelo cazzo, grazie eh, porcocana Cioè, non ci credo Dai bene, dai, bene, bene, no? Il panico finale E per secondi proprio da schiappe Non mi sa lì la sua tastiera, ma non vedi? Buono, buono Ma poi il gatto che mi schiaccia la tastiera nel fight finale Il classico, il classico Brutta merda, no? Oh, quando vuoi, eh? Ready Ready Ciao, Vitulzo Come stai? Come va questo inferno? Hai presente? Conosci questo gioco? Il Naraka Guarda, io ho fame Ho fame, ma soprattutto ho caldo Perché ci sono i faretti Che mi stanno proprio Wow, wow Infatti mi sa che faccio l'ultimo Poi stacco lo stream Perché la situazione diventa ingestibile Scusa, ma se lo spegni come si vede? Così Ma sì, che ti prega Poi penso che qualcuno ti guarda in faccia Mentre giochi Aspetta il momento in cui mi scaccolo In mondo visione Vabbè Però potrei scaccere un po' di più A noi piace Sì Puoi portare via sti faretti Anzi Anzi i faretti ti facevano vedere tutto lucido Eh sì, scaccola time Il game è la cosa È la cosa più divertente No, scaccolarsi in live Eh esatto Questo mese regaliamo Death Stranding Death Stranding Come? Ti facevano vedere tutto lucido I faretti Ti facevano vedere tutto l'azione Facciamano risaltare il sudore Sì Bello No, guardiamo gli altri personaggi Cos'è che fanno? Always look on the bright side You can't see anything in the dark Grubi è cura Grazie Salta in aria Fa un tornado Il tornado Oh, interessante Sì, ma quanto è brutto Sì, ma vabbè Puoi sempre personalizzarlo Hai visto che c'è La personalizzazione mega figa Tipo Che puoi passarci le ore Ma se ve l'ho detto io Dai, adesso fai pure il ganas Cos'è che faccio io? Ganasa Che sarebbe? Sto pensando Decisamente migliorato comunque Con Con la roba Io ogni tanto Io ogni tanto leggo ancora Ma l'hai messa sull'SSD? No Io sì Però abbiamo comunque perso Quindi non lo so Questa cosa è un po' triste L'ho perso Perché sei andata a curarti È colpa tua Perché a te non comunichi Non comunico Non comunico Se dicevi che era l'ultimo Salli Non me ne ho accorto Che era l'ultimo Eh no Eh no Non me ne ho accorto Se non comunichi Poi dà la colpa agli altri Va bene Dà la colpa agli altri Non è mica colpa mia Adesso non vinceremo più Ma chi è questo? Brava Siamo senza healer Bene È brutto Vediamo se Vinceremo No Sto che Non lo so Io metto i piedi sulla scrivania Sì Grande Skilled Vuol dire che non giocherò così bene No Per me giochi meglio Ma il nostro amico è un C'è un finto Finto cinese Non dire finto cinese Se non sei un cinese Se non hai l'arnese Ma perché io vedo tutto buio? Anche tu? Oh oh È successo qualcosa Al mio gioco Sì Sì Vedo tutto buio Trovo a riavviare Sì Sai quanto ci metto Ad aprirlo? Quanto ci metti Ad aprirlo? Un secolo Ma in che senso Vedi buio? Vedo tutto nero Katana blu Quindi non riesci a vedere? Niente? Vedo solo gli oggetti Non vedo gli edifici Gli edifici sono neri Non capisco da dove entro E diciamo Che non si prodiga Una buona partita Perchè no? Tanto mi carri tu? Ti carrio? Lo so Lo so Lo so Prank Comunque non è male Come giochino Tu cosa ne pensi? Ansia Non lo so Non lo so Sono sicura che tra un po' Mi stuferò Sì Il bello è che è gratis Per un po' Il tempo di stufarsi Più che altro Che se non riesco a arrivare sempre prima Poi mi annoio Vabbè Sei arrivata prima È il campionato dell'amicizia Voglio dire Quello più importante Esatto Comunque l'ha trovata La cosa blu Puoi rimettere a pingarle Sì ho visto Qua c'è un coso per La crossbow No Un'altra roba viola Sì 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 Penso proprio di sì Però io ho l'arco Che non voglio Qua c'è la crossbow Tu lo vuoi l'arco? Io lascio per te Ce l'ho Ce l'ho C'è il muschetto Il muschetto Allora è il nostro amico E' in culandia Stiamo in avanti Con la boa So è la solita boara Che è? La boara Cos'è la boara? Che è Il contrario di delicato Grazie Sei sempre così gentile Con me Sì C'è qualcosa di interessante Ma perché nei drop Leggendari C'è la merda? Perché li apro io Ah ok Chiaro Tu hai la catania? Sì C'ho la cosa viola Per la katana Se vuole Sì Interessante Sì ti interessa? Interessa Vieni Tenia 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 Chi è? C'è qualcuno eh? Il nostro Il nostro No no Io sento Qualcun altro Parlare Ma che ratti Che siete? Non c'è niente Katana Yaudo Per come se Ora Un po' Esci Tinger Weapon Of Blink Strike Cazzo Un Blink Strike Questo Mi sa che la katana Un po' La 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 Ma tu c'è ancora Le impostazioni Al minimo? Eh sì Sai Anch'io Sì perché Non le ho più Modificate Quindi Lancia blu Eh io ho bisogno Una cross Sì perché adesso C'ho ancora Bianca Muschietta blu Epica La vuole Il cinese Sì infatti Oh laggo laggo C'è gente C'è gente Laggo tantissimo E poi siamo dentro Quella zona Ah sì Qua ci si spumona Il coso Adesso Sì Arriverà gente Di sicuro Eccoli Ho tolto l'arma Sopra Una gialla Corre indietro Corre indietro Lui siamo noi Non l'ho uccisa Forse Sono più team Cato c'è il cinese Che sta combattendo Saliamo saliamo Lago Forza Eva Raga Due contro di me Dove siete? Avrevo Eh no Sono morta Porco di Viene Vendicato C'è un altro Per cazzo È il cinese Bella Mi piace tirarmi un reschino veloce Prima che in giro Sì 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 Mi stavo dimenticando Potremmo ressarti No Una Uno 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 Cosa Suntate quello che c'è da luttare ora abbiamo preso anche un'ammatura d'oro si c'è la katana epica ce l'hai già? prendo io aumentiamo lo slot delle soul jade qua al vendor ah no non c'è cazzo cosa dobbiamo fare? no di solito nei vendor c'è roba per aumentare i slot delle soul jade facciamo muschette epico sopra qualcuno sarà morto sopra ma c'è un altro vendor ecco a quel vendor lì ci sono altri slot di cose da prendere si chiamano soul jade o qualcosa così ti prendi tutti gli slot e aiuto aiuto qua pingalo pingalo quindi quindi dov'è eh? qua dove sono io ahia ok è morto ok andiamo il nostro amico sta combattendo ma io mi sa che faccio schifo ho fatto solo una kill ma anch'io ma anch'io di 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 colpo di grazia ma va bene va bene l'importante è arrivare in fondo no ma cosa dici? sei la più pro del gruppo ci carri sempre questo è figo questo è un povero si un poveraccio ecco ho preso l'albero anch'io vichia amica mia anch'io ho preso l'albero che noob c'è gente pieno pieno flaggo ci sono tutti no la strunata l'ho ucciso no no minchia un colpo con un colpo sono morta bella bella vai 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 grande comunque il cinese è ancora dentro eh non ci sta cagando ma ce ne sono due si sei due contro due tre ora si scappo si scappa guarda che c'hai undici colpi eh no che palla è la mia amica ma per colpa è l'enchi con un colpo si ma se quel cinese lì veniva era diverso dal sito io non so come fanno a uccidermi così eh attento 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 ma non è più forte l'azzo ok now we're talking the shadow will soon spread c'ha mica lutta ma come fanno essere c'era ancora 15 Sì, sono morti tutti Devi prendere la polverina Che non ne hai Chiude, chiude, chiude Comunque ho comprato un nuovo diodorante Tipo sei 100% naturale Ho detto, beh almeno non metto quelle cose chimiche sotto le ascelle Vegano Sì, sai tutte quelle cose, sai bio Così, ho detto, ma sarà super una figata Ero a lavoro, alle 10 già puzzavo come una cronia Classico Ho detto, no, meglio la chimicanza, ma almeno non puzzo Cioè avrò un tumore alle ascelle tra qualche anno, però vabbè Ti ricordi quando ti ho chiesto se i doderanti scadevano Ma non ti si può arrestare tipo al, tipo COD che c'è il forziere Dicevo qualcosa vuol dire, no? Sì, no Si, mi sa che è tipo da un vendor Magari quello lì oro, quel vendor oro, no? Eh, eh, pensavo anch'io Mi sa buono Mi sa buono rampini Non so perché non si cura l'armatura O non si cura Penso che abbia una skill Per curare l'armatura perché Prima me la stavo curando Dico, l'ho uscito armor regeneration Sì, eh Oh, c'è gente Oh, quando vuoi perché ne hai uno, eh Ma non ti metto fretta Madonna Madonna N'è morto in un secondo In un secondo è morto Madonna, cosa sta succedendo? È ancora vivo lui? Cioè, comunque è lui L'hanno sdrumato Aia Senti la musichetta che si agita Quando si beccano Lascia il combattere tra di noi Ma è un culo You can't rush beauty And kill it C'è morto Guarda quello Cannone, cazzo Cannone è fortissimo Lo voglio Ah Ma mi sa che è qua Una tipo Cosa apposta Perché Visto come Sparava Veloce E' fuoco E' quello che trovi dentro Il portiere d'oro Il talento Dici? No, no, proprio quel cannone lì Non è il cannone normale Il cannoncione Eh, sono andati terzi, mi sa Terzi? Sì Sì Ah, partì Terzi, perché Non si parla Anxlintra Partì Un'altra Do we fight together? Aggressor Niente amici di Safari Games, è giunto un momento di salutarvi, vediamo Così finalmente posso spogliarmi Ai 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 E niente, facciamo un roido Tanti cari saluti Salutoni